Si ritira perché tutto ha un limite, spiega così Mauro Dattis la sua decisione di abbandonare la competizione elettorale dalle primarie e dalla candidatura a sindaco del PDL. Tanti fattori che hanno influito, dalle lotte interne al Partito Azzurro, ai vecchi alleati che ora hanno scelto di sostenere il centrosinistra e il terzo polo, indebolendo il vecchio schieramento di centrodestra. E poi anche le ultime dichiarazioni del candidato sindaco Lorenzo Maggi che non parteciperà più alle primarie del centrodestra pronto a correre da solo. Penso che la politica debba dare dimostrazioni di serietà e voglio inserirmi in questo solco. In determinati momenti credo che venga richiesto a chi ha maggiore responsabilità delle posizioni di generosità, di rispetto, di predisposizione alla responsabilità. Quindi di responsabilità certa per risolvere il problema. Il problema nel PDL era ed è evidente. Ritengo così di poter dare un contributo alla soluzione del problema. Lo faccio con massima chiarezza, assumendomi la mia responsabilità e richiedendo agli altri, tutti gli altri, di assumersi una responsabilità. Il mio ruolo, l'ho detto anche lì dentro, è quello sicuramente di sostenere il centrodestra in una battaglia difficile contro la sinistra e il centrosinistra. Il mio ruolo è stato e sarà sicuramente questo. Il cerino passa così in mano a Massimo Ciullo, l'esponente di Nuova Italia, diventa il solo candidato sindaco del PDL. Dattis lascia tutto in mano a lui, in un clima non facile per il partito di Alfano in terra di Brindisi, dove Nuova Italia ha già comunicato che non si presenterà al congresso provinciale in rottura con la segreteria guidata da Luigi Vitali. Ora si apre una nuova fase di riflessione, proprio alla vigilia del congresso, e i dirigenti già guardano all'esterno. E non è detto che già sabato la presenza di Raffaele Fitto a Brindisi, in occasione del congresso, non venga annunciato il candidato sindaco del PDL. In queste ore Friole e Vitali incontreranno Massimo Ciullo per capire le sue intenzioni, ma un candidato esterno ormai sembra essere la soluzione più accreditata. Si sta valutando tra una rosa di nomi circa tre professionisti, tra questi compare l'ematologo Giovanni IV, medico dell'ospedale Perrino. Ed intanto si raccolgono le prime reazioni dopo la decisione di Dattis. L'ex consigliere comunale Luigi Modugno scrive «Il PDL a Brindisi è stato capace solo di sprecare tempo prezioso e di non valorizzare i suoi uomini migliori». Questa logica autolesionista e disfattista è molto lontana dallo spirito e dall'ideale di Forza Italia prima e del PDL poi, partito in cui mi sono riconosciuto e che allo stato attuale mi ha deluso. A questo punto le divisioni interne al PDL sono sempre più marcate.